Una riunione in tempi brevi allargata a dirigenti di Autostrade per l'Italia e di Strada dei Parchi per dare risposte concrete alla questione inerente alla competenza sulla manutenzione delle barriere di sicurezza laterali dei cavalcavia autostradali è stato garantito dal Presidente dell'Aggiunta regionale Luciano D'Alfonso al termine dell'incontro con i sindaci di alcuni dei comuni interessati dalla problematica in quanto attraversati sul loro territorio da opere d'arte che interferiscono con le arterie autostradali